Ciao bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto il video delle letture peggiori del 2017. Prima di cominciare però vi devo fare un paio di premesse. Questi sono sette libri che a me personalmente non sono piaciuti, che magari a voi potrebbero piacere. Questi sono sette libri che a me non hanno dato nulla, non mi sono piaciuti, da cui magari mi aspettavo di più e invece mi hanno deluso, che non mi hanno trasmesso nulla rispetto a tutti gli altri libri che ho letto invece quest'anno. Sono sette libri che non mi hanno dato nulla, ma che potrebbero dare qualcosa a voi. Queste sono le mie opinioni. Sono sette libri di cui probabilmente vi ho già parlato, di alcuni meglio, di alcuni peggio, comunque in maniera più approfondita. Comunque non rientrano nei miei gusti personali, ma che magari a voi potrebbero piacere, o potrebbero già essere piaciuti, potrebbero essere dei vostri libri preferiti. Quindi, in primis, non sentitevi offesi dal fatto che io magari metta questi libri nei peggiori del 2017. E comunque, magari, se siete incuriositi da questi libri, leggeteli, fatevi una vostra opinione. Questa è solo la mia opinione. Io, prima di essere una booktuber, sono lettrice come voi. Ho dei gusti personali, dei pareri personali che saranno questi. Ma voi dovete farvi la vostra opinione. Questa è una prima opinione che vi potete fare su questo determinato libro, su questi libri di cui parlerò. Ma dovete, se volete, leggerli per farvi un'opinione piena e vedere se magari ho ragione o torto, secondo voi, secondo il vostro gusto personale. Altra permessa è che di questi sette libri io ne posseggo solo quattro perché gli altri o li ho prestati o me ne sono sbarazzata in quanto non facevano parte appunto del catalogo di libri che volevo mantenere nella mia libreria in quanto già lo spazio è poco e ho preferito darli via. Quindi vi metterò nel caso la cover qui accanto a me. Di questi sette appunto quattro ce li ho qui con me, gli altri sono andati via. Inizierò da quello che mi ha deluso di meno a quello che poi mi ha deluso di più. Quindi dal libro meno peggiore al più peggiore. Il libro meno peggiore è decisamente The Glittering Court di Richelle Mead. Un libro che ho letto quest'anno, che non ho più qui con me e che purtroppo mi ha un po' deluso perché in questo caso appunto mi aspettavo che fosse un fantasy quanto spesso veniva presentato così, ma in realtà non lo è. È semplicemente una storia ambientata in un mondo nuovo, diverso, inventato, ma di fantasy non c'è nient'altro. Mi ha deluso proprio per questo aspetto perché la storia è sì carina, ma neanche tanto originale e non mi ha catturato più di tanto. Mi aspettavo molto molto di più di questo libro e invece non mi ha dato quasi nulla. Ecco il motivo per il quale me ne sono sbarazzata. Purtroppo è accaduto e quindi non credo che continuino la trilogia e speravo mi piacesse davvero, in realtà non è accaduto. Il sesto libro, insomma, quello che mi ha deluso dopo The Grittering Court in maniera un po' più peggiore appunto è stato E poi ci sono io di Kathleen Glasgow, un libro che volevo davvero che mi piacesse perché è uno young adult che parla di un tema molto molto importante ovvero di una adolescente che soffre di vari problemi, in particolare di problemi che riguardano l'autolesionismo ma che purtroppo, secondo me, ha trattato il tema in maniera un po' troppo superficiale e ha fatto sì che questa povera ragazza vivesse una storia che, a mio parere, non l'ha aiutata quasi per niente o comunque è riuscita ad aiutarla solo verso la fine del libro. Non mi è piaciuto quasi per niente, non mi è piaciuta la relazione che si va a creare qui dentro non mi è piaciuto come appunto la protagonista si sia approcciata alla sua malattia almeno dal momento in cui esce dalla clinica in cui era in cura e quindi è un libro che mi ha molto deluso non me ne sono sbarazzata perché comunque penso sia un tema molto importante e voglio questo libro nella mia libreria ma purtroppo mi aspettavo davvero molto molto di più mi aspettavo che il tema fosse affrontato meglio, con una storia migliore e non è stato così. Il quinto posto va invece a I Wrinkle in Time di Madeleine Lengol un altro libro che volevo davvero che mi piacesse un libro per bambini e ragazzi che mi ha regalato mia sorella e che entrambi abbiamo letto in inglese e nell'italiano e ad entrambe non è piaciuto comunque non abbiamo capito molto bene la trama in quanto secondo me è un po' troppo confusionaria faranno comunque il live action Disney quindi sono molto curiosa di vedere il film perché secondo me mi piacerà molto molto di più rispetto al libro e comunque secondo me è una storia che va a letta appunto perché ad esempio ad altre persone può piacere mentre a me non ha dato granché e quindi è stato un libro un po' deludente diciamo di quest'anno quarto posto per Legion quarto volume della saga di Talon la saga di Talon di Julie Kagawa a me stava piacendo tantissimo mi sono piaciuti davvero tanto soprattutto i primi due libri si tratta di draghi di organizzazioni che controllano i draghi invece altre organizzazioni che vogliono sterminarli nel mondo di oggi ma questo quarto libro non mi è piaciuto per niente perché mi ha un po' fatto arrabbiare il fatto che il terzo libro sia finito in un modo e la soluzione sia stata alquanto banale trovata all'inizio delle pagine iniziali di questo libro e comunque tutta la trama in realtà di questo penultimo volume in quanto poi ci sarà l'ultimo libro quest'anno, nel 2018 non mi ha dato niente la trama diciamo rispetto ai primi tre volumi in particolare rispetto ai primi due mi ha deluso molto spero che comunque il quinto e ultimo libro appunto sia migliore che la trama si riprenda e che accada quello che voglio io perché davvero non mi ha fatto impazzire anche il triangolo amoroso qui mi ha dato molto fastidio mentre inizialmente non mi stava dando fastidio e comunque tutta la questione non mi ha fatto impazzire quindi comunque terminerò la saga perché mi manca alla fine un libro solo ma questo quarto volume per me è un grandissimo no terzo posto per Fallen di Lauren Kate libro che ho letto quest'anno di cui non posseggo più la copia e che non mi è piaciuto per niente non mi è piaciuto lo stile non mi è piaciuta la trama non mi è piaciuta la protagonista non mi è piaciuto praticamente nulla dall'inizio alla fine certo una lettura carina che secondo me se avessi letto a 15 anni nel periodo Twilight mi avrebbe fatto impazzire ma adesso con una maturità maggiore e con alle spalle molti altri libri letti del genere fantasy urban fantasy questo libro non mi ha dato nulla sono consapevole invece che a molti di voi piace che la saga vi è piaciuta che ha venduto milioni di copie ed è questo uno dei tanti esempi di cui parlavo prima il fatto che un libro a me possa non piacere e a voi invece possa far impazzire ed è giusto che sia così quindi per me Fallen è stato una delusione ma per molti molti altri è stato un bel libro quindi perché non dargli comunque una possibilità secondo libro secondo posto per i libri più deludenti o peggiori del 2017 è per Believeland un libro di un'attrice italiana emergente di cui vi ho parlato nelle wrap up di gennaio del 2017 se non ricordo male che purtroppo non mi è piaciuto quasi per niente io ne parlai con l'autrice lei è stata molto matura e molto gentile nel dirmi che avevo tutto il diritto di farle delle critiche costruttive sempre con educazione e rispettandola dicendole che quello che pensavo era appunto che lei secondo me doveva semplicemente migliorare il suo stile comunque l'autrice è molto giovane e secondo me ha il potenziale per scrivere molto molto meglio rispetto a quel libro che a me appunto non ha dato nulla non mi piacque tant'è che non mi feci neanche la recensione a parte ma ne parlai appunto nelle wrap up brevemente affermando appunto le stesse cose cioè che secondo me può semplicemente fare di meglio può scrivere di meglio perché la base c'è quindi Believeland secondo posto il primo posto il primato dei libri peggiori del 2017 penso che sappiate benissimo qual è è per hashtag aprigliocchi di Severino Cirillo di questo libro che ho fatto la recensione perché la casettitrice mi aveva richiesto di farlo è un libro che non mi è piaciuto dall'inizio alla fine non mi è piaciuto lo stile non mi è piaciuta la trama mi ha fatto molto arrabbiare in alcuni punti e anche in questo caso è un'altra mia opinione so che invece ad alcuni altri ragazzi questo libro è piaciuto comunque l'hanno trovato piacevole quindi anche in questo caso potreste tranquillamente dargli una possibilità io credo che sia un brutto libro ma voi potete magari leggere e pensare che è il libro della vostra vita nulla in contrario o nulla contro appunto questa opinione insomma semplicemente per me è stato il libro più brutto che ho letto nel 2017 ma ripeto è solo la mia opinione quindi magari qualcun altro può trovarlo invece un libro bello bene questi i miei libri peggiori del 2017 o comunque libri deludenti del 2017 che non mi hanno dato nulla che mi hanno deluso perché magari mi aspettavo un po' di più fatemi sapere se invece voi avete delle letture che vi hanno deluso nel 2017 se avete letto questi libri e magari vi sono piaciuti o se siete d'accordo con me insomma fatemi sapere qual è stato il peggio che avete letto in questo anno appena terminato io spero che il video vi sia piaciuto vi lascerò comunque il link per acquistare tutti i libri che ho citato qui sotto nell'info box insieme ai miei social e noi ci vediamo al prossimo video ciao